Un saluto a tutti cari amici e benvenuti sul mio canale, un grandissimo ringraziamento a tutti i nuovi iscritti di ieri che sono stati tanti e che mi aiutano a far crescere il canale perché non è facile gestire un canale con così tanti contenuti e seppur sia un grande divertimento e poi tutto mica me l'ha ordinato il medico di aprirlo a volte veramente anche un po' stancante quindi grazie a tutti per il vostro supporto ma passiamo subito al video di oggi nel quale vi mostrerò uno degli attacchi, secondo me, più geniali e più brutali della storia degli scacchi i protagonisti sono due titani dei grandi tornei, il russo Matlakov che giocherà di bianco, pensate nel 2017 è stato campione europeo e di nero l'ucraino Elianov che nel 2010 ha avuto un picco di 2761 che lo ha portato ad essere il numero 6 del mondo nel 2007, quindi solo pochi anni prima, per la sua incredibile preparazione teorica è stato il secondo di Gelfand nel mondiale mitico contro Anand e ora stiamo per guardare insieme la loro partita giocata al Cigori in Memoria di San Pietroburgo nel 2013 allora non dimenticate Dike e partiamo perché Maxim Matlakov di bianco apre la partita con D4 e allora Pavel Elianov risponde con cavallo in F6 C4 E6 cavallo in C3 e arriva al fiere in B4 siamo nella ninzio indiana ora noi sappiamo che le due continuazioni principali del bianco sono E3, che è la variante Rubistain e la seconda, donna in C2, giocata in questa partita la cosiddetta variante classica o di capa blanca qual è la logica di questa mossa? la logica è molto semplice il bianco attaccando poi l'alfiere vuole costringere il nero a cambiarlo sul cavallo e quindi a tenersi la coppia degli alfieri senza farsi fare il danno alla struttura pedonale come in tante mosse degli scacchi però c'è anche un'altra faccia della medaglia è che noi sappiamo che la donna non dovrebbe essere sviluppata troppo presto e allora anche se la continuazione più giocata dal nero è a rocco corto una delle più interessanti è l'immediato attacco al centro con D5 proprio la mossa giocata da Eliano e allora arriva C per D5 e per D5 che libera l'alfiere Campochiaro alfiere in G5 inchioda il cavallo sulla donna e arriva C5 ora attenzione questo C5 veramente minaccia di catturare il pedone con effetti disastrosi perché la donna non più in D1 non lo sta più proteggendo e allora arriva D per C5 H6 se il bianco a questo punto cambia l'alfiere sul cavallo è già messo male perché se sarebbero invertite le storie sarebbe il nero ad avere la coppia degli alfieri con un centro semiaperto quindi già posizione bruttina e allora l'alfiere torna indietro in H4 a rocco corto per il nero e ora qui bisogna sviluppare il lato di re arriva E3 alfiere in E6 e cavallo in F3 cavallo in B che va in D7 e ora guardate il nero è vero che è rimasto col pedone isolato ma guardate che attività non solo quello che velocità nello sviluppo dei pezzi guardate il cavallo che cattura la torre in C8 la donna in A5 doppio attacco sul cavallo insomma già arroccato insomma la situazione seppur in totale equilibrio si fa pericolosa allora è giustamente matla come vuole arroccare alfieri in E2 torre in C8 a rocco corto anche per il bianco e qui arriva torre per pedone in C5 inchioda il cavallo che ora non è più inchiodato sul re ma diventa inchiodato sulla donna e allora cavallo in D4 cosa fa? blocca la pericolosa futura avanzata del pedone e qui arriva donna in C8 terzo attacco sul cavallo che essendo inchiodato sulla donna non difenderà più oppure non difende più la casa E4 e adesso che la donna si è spostata il cavallo veramente ci può saltare guardate che controgioco micidiale allora ah in questa posizione addirittura qualcuno aveva pensato di poter giocare F3 guardate che succede dopo F3 non giocata da Matlakov arriva alfiere per cavallo e qui naturalmente è il pedone che deve ricatturare torre che cattura e attacca la donna è vero che vince un pedone ma dopo donna in D2 per il computer il bianco sta comunque bene perché è rimasto con la coppia degli alfieri il nero scusate ha un pedone isolato insomma c'è da giocare ma senza l'appoggio del computer sembra una posizione veramente rischiosa per il bianco quindi non credo che un bianco senza averla prima guardata al computer sia soddisfatto di questa posizione ritorniamo a noi e allora per questo motivo Matlakov gioca cavallo in B5 cosa fa? nuova protezione sul cavallo attacca pure A7 e allora alfiere per cavallo in C3 è il cavallo che ricattura ma lui stesso rimane inchiodato Elianov gioca cavallo in E4 mossa migliore eppure guardate andava calcolata bene perché permette un attacco doppio pauroso infatti Matlakov gioca alfiere in E7 attacca entrambe le torri ma arriva cavallo per cavallo in C3 ora attenzione come mai andava calcolata bene? qui bisogna riprendere il cavallo perché la cattura di una delle due torri dopo tutte le semplificazioni lascerebbe il nero con due pezzi per la torre ve lo faccio vedere velocemente se alfiere per torre in F8 cavallo in E2 con scacco e quindi questa donna finisce sotto attacco allora donna per cavallo cavallo per alfiere guardate due pezzi per la torre stessa cosa succede se alfiere per torre in C5 perché di nuovo arriva lo scacco del cavallo donna in E2 donna che cattura in C5 e di nuovo il nero è rimasto con due pezzi leggeri per la torre e allora il bianco è costretto a riprendere B per C3 ma una delle due torri all'alfiere gli scappa perché arriva torre che cattura in C3 che attacca la donna allora donna in A4 è la mossa migliore torre in E8 attacca l'alfiere alfiere in B4 riattacca la torre e questa torre si porta in C2 attacca l'alfiere che si muove in D3 attacca la torre torre in C7 questa è la posizione migliore per la torre e allora cosa fa il bianco? di donna si riprende il pedone in A7 mossa migliore arriva cavallo in E5 incredibilmente siamo al momento critico di questa partita perché ora cosa bisogna fare? questo alfiere in D3 sospeso e sotto l'attacco del cavallo e allora o va spostato in E2 o va protetto forse forse è la cosa migliore ricentralizzando la donna certo dispiacerebbe perdere la coppia degli alfieri e invece Matlakov cosa fa? naturalmente lo sposta e sembra anche giocare una delle mosse più attive perché gioca alfiere in B5 che sposta l'alfiere attacca la torre eppure è un gravissimo errore e noi siamo arrivati al nostro quizzone secondo me difficilissimo perché il nero Elianov troverà una combinazione pazzesca e allora mettete pure in pausa se volete e da voi la parola ritorniamo subito a noi cosa avrà giocato il diabolico Elianov Elianov trova la stupenda alfiere in H3 due punti esclamativi dati dal computer come mai questa mossa è fortissima? perché Elianov ha notato che quattro pezzi su cinque del bianco sono tutti sul lato di donna a difendere il re è rimasta soltanto la torre e allora ha lasciato due pezzi in presa guardate ma andiamo a vedere che succede questo alfiere non si può catturare non lo farà naturalmente il bianco perché dopo G per H3 donna che cattura in H3 e ora si minaccia cavallo in F3 con scacco e poi il matto di donna in H2 e che succede se arriva F4 a chiudere tutto? torre in C2 nuove minacce di matto il bianco può abbandonare ritorniamo in questa posizione questa mossa spaziale e che succede se si cattura la torre? dopo alfiere per torre in E8 donna in G4 minaccia scacco matto in 1 G3 mossa unica ma donna in F3 matto imparabile di donna in G2 e allora è disperato è disperato Matarakov ricentralizza la donna donna in D4 che se non altro non permette l'ingresso della donna nera in G4 e qui arriva un altro sacrificio che apre tutto cavallo in F3 con scacco va catturato altrimenti vince la donna e allora G per F3 un'altra mossa spaziale torre in E4 anche questa impresa cosa fa? attacca la donna che non può catturarla perché la torre è protetta dal pedone bisogna stare anche attenti perché non si può catturare di pedone perché il pedone ricatturando blocca la donna e quindi arriva donna in G4 con scacco e poi il matto successivo di donna in G2 se la donna si sposta bisogna anche stare attenti a non perdere l'alfiere quindi posizione disgraziata guardate che succede se si tenta di spostare la donna non giocata in partita con donna in D2 torre in G4 un altro sacrificio e qui naturalmente se si cattura è matto forzato re in H1 alfiere in G2 con scacco re in G1 alfiere che cattura in F3 scacco matto posizione bestiale decide di catturare il pedone matto donna che cattura in D5 e adesso torre che cattura in B4 cerca di attivare le torri torre in F che va in D1 oltretutto cerca anche di liberare una via di fuga per il re arriva un sacrificio di qualità micidiale torre per alfiere che attacca anche la donna o che succede che succede se si sposta la donna perché a cosa serve naturalmente perché ora in partita naturalmente catturerà matto arriva torre in G5 attacca la donna e minaccia torre in G5 con scacco allucinante ma che succede qui se si sposta la donna donna in B3 mossa considerata migliore se si sposta la donna torre in G5 con scacco re in H1 alfiere in G2 con scacco re in G1 alfiere che cattura in F3 scacco di scoperta re in F1 e adesso arriva una combinazione di matto brutale sacrificio anche della seconda torre il re non può scappare deve accettarlo per forza arriva donna in H3 che non lo fa più scappare e minaccia matto in 1 torre in D8 con scacco re in H7 lo scacco di donna gli serve per rientrare in difesa del re G6 donna in F1 ma arriva donna in G4 con scacco unica mossa interporre la donna donna per donna in G2 scacco matto io dico questa qui è la più bella partita che io ultimamente ho visto e che vi ho portato sul canale e allora che succede dopo torre per alfiere che attacca la donna riprende di donna ma come dicevamo arriva di Elianov torre in C5 ora gioca l'idea migliore Matlakov torre in D8 con scacco e quindi attacca anche la donna se la donna cattura almeno il bianco si ripide la torre donna per torre donna per torre e protegge lo scacco di donna da G5 ma qui arriva un'altra mossa stupenda donna in F6 attacca la torre sospesa e se la cattura è scacco matto attacca anche il pedone F3 per dare il matto in G2 e qui il bianco abbandona guardate la difesa migliore donna in D4 difesa migliore donna che cattura in F3 e minaccia matto in 1 donna in D8 con scacco re in H7 donna in D3 con scacco G6 l'unico modo di salvare il matto è cedere la donna alfiere per donna la torre ricattura ma naturalmente questo finale è totalmente vinto dal nero per me questa è una delle combinazioni più geniali della storia degli scacchi ditemi voi nei commenti cosa ne pensate e ancora io vi chiedo gentilmente se non siete ancora iscritti al canale ma vi piacciono i contenuti che vi porto allora vi chiedo di iscrivervi per aiutarmi sempre a far crescere il canale come al solito naturalmente vi ringrazio tantissimo per l'ascolto e noi ci vediamo domani con una nuova sfida del campionato del mondo più pazzo di sempre a presto a presto a presto a presto a presto Grazie a tutti